come si fa a recuperare un'operazione andata in perdita bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video un video di strategia e di operatività oggi andiamo a vedere cosa ho fatto la scorsa settimana per recuperare una posizione su bitcoin che mi era andata contro ragazzi una posizione di breve periodo e cosa ho utilizzato e quali sono state le tecniche di money management ragazzi perché questo sarà un video dove vi spiego tutto quello che è l'importanza di utilizzare queste tecniche appunto di money management e come possono aiutarci a recuperare magari delle posizioni e dei trade che non sono andati un po come volevamo insomma un po non sono andati a genio diciamo così per questo tipo di operatività io andrò a utilizzare il broker prime xbt broker che preferisco per le operazioni di breve alleva ragazzi per tanti motivi intanto in questa bull run di bitcoin prime ci permette di utilizzare bitcoin per operare sui mercati come valuta e quindi io guadagno due volte senza poi si può dire così perché se bitcoin continua a salire noi guadagniamo sia sul deposito che è in valuta bitcoin sia andiamo a prendere dei profitti delle nostre operazioni di trade allora vi lascio il link in descrizione di prime come sempre mi date una mano con i rep ma soprattutto vi do anche un bonus perché c'è un coupon dal 25 per cento di sconto delle figli utilizzatelo ragazzi perché se volete testare anche la piattaforma è utilissimo in più tra le altre cose hanno fatto un gruppo italiano vi lascio anche il gruppo che da quello che ho visto praticamente appena nato ragazzi quindi il gruppo telegramma di prime la community italiana penso che stia diciamo iniziando a crescere quindi vi lascio anche in descrizione il loro link sono pochissimi quindi magari potranno fare qualche offertina in più di solito quando i gruppi telegramma crescono fanno dei giveaway ragazzi quindi magari qualcosina la regalano quindi magari date un'occhiata al gruppo telegramma di prime allora ragazzi cosa è successo l'altro giorno ve lo faccio vedere sui grafici vi faccio capire tutto quello che io avevo utilizzato e per fare quella mia operazione di breve e quali erano le mie ipotesi le mie aspettative poi cosa è successo sui mercati come ho agito per mettere una pezza la situazione soprattutto perché è come sono in questo momento perché poi sono andato a trasformare un'operazione in perdita in una in grosso profitto e lo vediamo in questo momento sul mio conto va bene ragazze allora eccolo qui il conto di prime e sul grafico daily dovrei andare a spiegarvi tutto quello che è successo allora come vedete in questo momento io ho ancora una posizione a in realized profit disposto altrimenti non vedete è che questa qui ragazzi la vedete ovviamente il balance è positivo queste banze di aprile perché non ho prelevato il mio cane quindi quello che vedete appunto è relativa mese di aprile e io sto facendo trade con un reward ragazzi che ho da qualche mese insomma ormai qualcuno di voi segue queste operazioni e quindi ha già dato un'occhiata allora sono rimasto con tre lotti appesi io utilizzo sempre una strategia con leva 1 su questo conto cosa significa leva 1 significa che vado a utilizzare 0 2 btc perché 0 2 btc il mio capitale di partenza non uso la leva diciamo in maniera formale ragazzi perché poi oggettivamente tutti broker cfd prime e broker cfd useranno una leva automatica ragazzi quindi se voi andate a vedere qui infatti io ho una available margin del 98 99 per cento ragazzi perché in sostanza posso andare a mettere nuove operazioni long short su tutti i mercati che prime ha prime ha anche i mercati non solo critto ma anche quelli old ragazzi quindi potete fare investimenti anche sul nasdaq su sp e sul forex però io in questo caso ragazzi al di là di quello che fa il broker e questo è la prima regola che dovete seguire vado sempre a utilizzare una leva pari a 1 quindi per me io ho un capitale di 0 2 quindi vado a comprare massimo 0 2 fino a leva 4 quindi massimo 0 8 faccio da 0 2 a 0 8 btc ragazzi questo è diciamo la mia strategia di position sizing per quanto riguarda queste operazioni che sono di breve periodo quindi molto volatili molto operazioni molto da trading allora se non che quando ho iniziato ad aprire le posizioni eravamo vediamo se riesco a mettervi il grafico direttamente insomma ecco in maniera un pochettino più grande ok eccolo qui ragazzi ragazzi eravamo esattamente qui in questa zona va bene quindi il giorno 20 di aprile quando ha fatto questa shadow io mi aspettavo in questa fase che il mercato facesse un piccolo pump per poi iniziare una fase di discesa quindi cosa ho fatto essendo delle operazioni di breve sono andato a comprare intorno ai 55 ma anche un po più giù a dire la verità ragazzi adesso vi faccio vedere proprio le posizioni comunque qui in questa zona sono andato a comprare se lo che nella candela verde che vedete ero andato in profit ma non era questa il mio trading plan per questo non ho chiuso le posizioni e ho atteso perché io mi aspettavo il giorno dopo che il mercato facesse questo break in questa zona avendo fatto una candela rossa così che era un inside ho atteso ulteriormente che il mercato il giorno dopo desse un segnale sedo che mi fa un break al ribasso poi però ragazzi allora cosa succede io in questo caso intervengono poi tutte quelle che sono le mie analisi di trading analisi tecnica analisi ciclica perché mi aspettavo che il mercato facesse la ripresa del ciclo di natura mensile settimanale e quant'altro questa cosa ovviamente io la utilizzo a mo' di filtro per la mia operatività quindi se mi aspetto che il mercato riprenda una sua fase ciclica allora gestisco quella opposizione che mi è andata da profitto in perdita ragazzi ok quindi quando voi sapete bene che quando l'operazione da profitto si trasforma in perdita a livello emotivo iniziano una serie di errori ma se seguite delle strategie che sono dettagliatamente scritte fate quello che vi siete programmati poi diciamo alcune volte può andare sempre male quindi si chiude in stop non c'è problema ragazzi però non sbagliate mai quando andate a fare esattamente quello che vi eravate programmati in anticipo questo tipo di strategia io l'ho programmata in anticipo è sempre la stessa da più di un anno ragazzi ok quindi nel momento in cui il mercato mi va contro ho una enorme capitale per compensare eventuali diciamo perdite ovviamente ragazzi non sono operazioni contro trend perché sono operazioni sempre dettate dalle mie analisi cicliche quindi sempre in sintonia in timing con le mie analisi questo è fondamentale però quello che insomma dovete ragionare su questa cosa è applicare una strategia applicare un trading plan ok quindi studiatevi una strategia studiate un trading plan la studiate in maniera dettagliata e poi definite i vostri colpi cioè quante munizioni avete ragazzi perché io nel momento in cui il mercato mi è andato contro per esempio nella giornata del 21 del 22 in questa in particolar modo mi ha buttato proprio fuori non ho perso i lumi della ragione perché appunto non ero a leva ragazzi ero esposto poco avevo tantissime cartucce ragazzi guardate qui in questo momento io ancora tantissime tantissime cartucce da giocare perché ho un avevo margini del 99 per cento io potrei aprire posizioni in questo momento fino alleva 100 ragazzi quindi 100 posizioni come quella che attualmente o per questo ho tante cartucce in questo momento ovviamente sono in game vedete le posizioni aperte proprio in real time le altre le ho chiuse perché sono andate in pari quindi insomma ragazzi quando il mercato mi ha dato contro io ho iniziato ad accumulare con analisi tecnica quelle che erano lotti e posizioni vi faccio vedere la trade history la trovate qui queste sono tutte gli accumuli intanto vedete queste non le operazioni precedenti non perdevo da un sacco di tempo avevo fatto una piccolo loss qui ma ovviamente in mezzo a posizioni totalmente positive vedete tutti i le posizioni positive se non che da qui in poi ragazzi vede qui è iniziata una serie di difficoltà che è quella che vi dicevo appunto intorno al 21 scusate non è questa è quella di sopra intorno al 19 20 di aprile da qui in poi non ho chiuso posizioni perché sono andato in perdita se non che ho iniziato vedete ad accumulare lotti da 01 in tutte le dip del mercato dove erano posizionati dei livelli di supporto che sono stati erano già tre preventivamente delineati ragazzi dalle mie analisi in tutte queste fasi e in concomitanza con le strutture anche di cicli più piccoli ovviamente sono andato a prendere questi livelli fino ad arrivare ad una posizione pari a 0 7 btc quindi quasi in questo caso il massimo della mia leva accettata nei miei programmi di position sizing perché la mia leva massima e 4 quindi da 2 a 02 per 408 btc quindi sono arrivato a 0 7 ragazzi con l'ultimo lotto che ho acquistato il 24 di aprile questo qui vedete a 49 3 ce n'è anche uno a 48 poi ce ne sono 51 e 2 51 e 6 e questi che erano stati molto alti che appunto erano quelli iniziali che dovevo recuperare ragazzi 55 7 53 9 quindi 54 e 55 e 3 proprio questi erano andati in perdita e li ho recuperati poi precedentemente come vedete nella giornata di oggi quando il mercato mi ha ridato un prezzo accettabile e soprattutto in virtù di alcune analisi che ho sul sui livelli di tp quindi sempre analisi grafica io ho tolto la parte eccedente della mia posizione cioè io devo giocare a 02 diciamo così ragazzi sono ritornato al mio livello di 0 2 in questo momento sono a 03 ragazzi perché il mercato ha iniziato una fase diciamo un po più realza e sta 03 sta bene ok non è un problema perché poi non bisogna avere fretta di uscire però ragazzi non ho lasciato l'esposizione a leva questo dovete iniziare a capire e vi faccio anche vedere tutto le operazioni di chiusura sono andato a chiudere uno due tre quattro lotti vedete esattamente pareggiando guadagnando un poco a dire la verità perché vedete qui ho guadagnato circa insomma qualche decina di bitcoin qualche decina di stato un po un po troppo bello per essere vero comunque vedete la posizione che ho chiuso sono state chiuse comunque in profit e ho lasciato quelle adeguate all'interno del mercato che in questo momento mi portano comunque un livello di profitto che vedete in questo caso come a realize the profit ora qual è il discorso ragazzi perché ho chiuso non ho lasciato la leva moltissimi potrebbero dire a 607 se andai il mercato ti sta andando a favore lascia 07 domani fa mille duemila tu guadagni di più si verissimo ragazzi ma sto rischiando troppo ed è totalmente sbagliato rispetto a quello che il mio programma quindi nel momento in cui si va a programmare una strategia il trading plan è la pianificazione la dovete seguire ragazzi se io utilizzo la leva non per speculare guadagnare di più ma per proteggermi nel momento in cui il mercato mi va contro e cercare di recuperare delle posizioni e so che se faccio questo miscelato tutte le mie analisi a tutti quelli che sono gli indicatori che vado a utilizzare la mia probabilità di andare in profitto chiudere anche a break even quindi con perdite praticamente inutili insignificanti è molto alta ragazzi quindi riesco a gestire molto bene le operazioni di trading in questo modo ma se quando il mercato mi va a favore il resto alleva mi espongo un rischio ulteriore quindi cosa si fa attendere che il mercato arrivi a un livello di resistenza adeguato e poi si chiude tutto l'eccesso in questo caso addirittura anche in profit vedete perché ho chiuso proprio esattamente qui ragazzi perché il mercato è andato a questo livello di resistenza sul daily che è molto importante perché è una fascia vedete di pullback dal basso verso l'alto che sta facendo quindi in questo momento andare ad essere esposti anche se il mercato ha fatto un candelone verde enorme è sbagliato a leva molto alta quindi sono ancora dentro con questi tre lotti che vedete che fanno un prezzo medio di carico ragazzi intorno a 51.2 k ovviamente questi lotti saranno mantenuti in trailing stop quindi io continuerò a seguire questa operazione secondo il mio trading plan che un trading plan di natura settimanale ragazzi queste sono per attività che durano tre quattro giorni quindi quella che vedete in questo momento è valida da oggi per i prossimi tre quattro giorni quindi io nell'arco di domani dopodomani è ancora un giorno avanti decido quando è il caso di uscire se il mercato mi va contro chiudo e blocco perché il mercato sta facendo fatica negli ultimi periodi se invece il mercato mi va a favore galoppo sul trend e non esco fin tanto che non si raggiunge un livello adeguato di target ok ragazzi questo è l'uso corretto del money management e della leva quando andate a fare operatività ricordatevi la leva finanziare vi aspone un alto rischio ma se la utilizzate per diciamo proteggere la vostra posizione e sapete che potete arrivare fino a un livello di leva che avete preventivato secondo quello che il vostro capitale di rischio allora non usatela per esporvi e cercare di essere avidi sul mercato guadagnare di più andate a usarla se il mercato per caso vi va contro e andate a proteggervi ovviamente ragazzi lo so io parlo un po per esperienza per anni e anni e anni dietro le spalle so che non è per niente così semplice fare cose del genere però io ve le dico sul canale ragazzi queste possibilità perché è anche un buon modo di far riflettere tra tantissimi di voi che magari vogliono studiare vogliono apprendere delle logiche e questi sono dei modi molto belli per apprendere appunto queste logiche come andrà questa posizione la vedremo in sul mio canale telegram perché oltre che in academy questa posizione la sto condividendo anche sul canale telegram e dico un po quello che faccio in academy chiaramente ragazzi queste posizioni io le condivido proprio mentre le andiamo a realizzare perché appunto li facciamo training in natura operativa e mi piaceva appunto portarmela sul canale proprio perché non è la fatidica operazione dove io vi dico ho fatto un milione per cento e poi alla fine magari chiudo con un super boom anche questo questo trade ragazzi ok lo vedremo magari poi vivi fa vi do il resoconto però è più interessante vedere come si recupera un'operazione che viva contro ragazzi perché è più difficile fare una cosa del genere piuttosto che fare il mille x per cento alleva finanziaria che ovviamente come vedete qui quando andiamo a vedere questo tipo di operazioni sono più 726 ragazzi proprio perché io non usando nessun tipo di leva quello che vedete qui in questo momento è in base al guadagno effettivo sul capitale marginato quindi non quello è insomma vero diciamo così che va al mercato ma quello che viene utilizzato dalla piattaforma per il margine va bene ragazzi allora vi ho spiegato questo tipo di operatività vi ho spiegato quello che ho fatto io per salvare la mia operazione il mio trade negativo l'ho chiamato avevo chiamato satoshi rescue stavamo seguendo questa operazione negli ultimi giorni ora sapete quello che ho fatto perché l'ho fatto e come sono in questo momento esposto con appunto una leva pari a quella che da programma è quella che gestisco ogni volta è così ragazzi che sono tre mesi 3 lo dico 3 che non faccio un loss vero poi ci sono appunto i loss da fare per sistemare l'operazione complessiva ma non faccio il loss da tre mesi così ok ragazzi trading 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 fatemi sapere cosa ne pensate ciao a tutti